Oggi è la seconda lezione, come vedete qui parleremo della gamification Faccio subito una premessa, questa sarà una lezione totalmente teorica quindi sarà un po' la lezione più noiosa di tutte le quattro previste noiosa ma molto interessante a mio parere perché sarà una lezione dove parleremo di meccaniche ludiche, di game design e argomenti simili per nostra fortuna insomma questi argomenti sono interessanti perché ovviamente vanno al di là di scratch sono argomenti universali che possiamo, potrete applicare poi anche a qualsiasi attività didattica gamificata oppure ludicizzata insomma se lo volete dire in italiano ok partiamo subito da una definizione di gamification molto utile è la definizione di wikipedia e già qui dal primo paragrafo possiamo vedere appunto gamification traducibile in italiano come ludicizzazione è l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e dalle tecniche di game design in contesti non ludici ok andiamo avanti, andiamo sugli obiettivi che secondo me ci chiariscono un po' di cose l'implementazione di meccaniche ludiche è uno dei metodi più efficaci per coinvolgere le persone nelle attività di un sito o di un servizio offerto ovviamente lo vedremo ora più avanti già qui nel paragrafo delle applicazioni stando almeno a quanto ci dice wikipedia e come di la gamification, si parla di solito di gamification soprattutto insomma anche nei processi di esperienza dell'utente nell'acquisto o diciamo nella fruizione di servizi ovviamente vale anche per le piattaforme di learning o per le attività educative ok? interessante soprattutto la parola coinvolgere la parola coinvolgimento perché la gamification serve proprio da manuale ad aumentare, a incrementare l'engagement, il coinvolgimento dell'utente nel vostro caso dato che come platea probabilmente siete in gran parte docenti insegnanti della scuola, primaria o secondaria ovviamente si parla, come dire, il scopo della gamification è quello di coinvolgere aumentare il coinvolgimento degli studenti cosa significa coinvolgimento? io in base un pochino a quello che ho letto anche su dei libri vi consiglio il libro L'arte del coinvolgimento di Fabio Viola al riguardo coinvolgimento è qualcosa che in qualche modo si basa, sfrutta, cerca di come dire, evocare delle emozioni nel nostro utente, nel nostro studente nel processo gamificato, ludicizzato che gli abbiamo costruito intorno o che comunque prevede la sua partecipazione quindi coinvolgimento significa proprio emozionare, rendere partecipe con le emozioni, l'utente in questione, il cliente, lo studente, eccetera applicazioni, la gamification può essere applicata in diversi campi non si limita solamente al social business o al web engagement vedete, come dicevo prima, il coinvolgimento ma può essere applicata in tutte quelle occasioni dove l'obiettivo finale è comunicare o diffondere un messaggio ok, le tecniche ora io vi sto facendo vedere questa definizione di gamification che chiaramente è intrinseca al concetto stesso di gioco o di videogioco ok, ve lo sto, sto cercando di approfondire un po' di più la definizione per poi, più tardi nel webinar per affrontare insieme a voi la distinzione dei progetti scratch che sono dei veri e propri giochi da altri progetti scratch che magari non lo sono come sapete, insomma, con scratch si possono fare varie cose non è detto che tutto ciò che viene fatto di solito sia un gioco o un videogioco perché ovviamente il gioco deve rispondere appunto a delle meccaniche ludiche appunto delle meccaniche di gioco che sono abbastanza standard e insomma le conosciamo un po' tutti per esempio punti, i livelli, i beni, i premi virtuali, le classifiche, eccetera, eccetera che ovviamente sono tutte, come dire, delle ricompense che in qualche modo vengono date all'utente, al giocatore, allo studente in virtù di una sua prestazione di buon livello di una sua, come possiamo dire, del fatto che abbia messo in evidenza che abbia mostrato una propria abilità, una propria destrezza, eccetera, eccetera andiamo adesso a ricercare proprio queste meccaniche ludiche queste meccaniche di gioco all'interno dei tutorial, dei progetti scratch che abbiamo visto anche durante la scorsa lezione i progetti scratch interni alla pagina Microninja questo è l'indirizzo ok potete poi insomma segnarvelo microninja.me slash risorse slash scratch qui ci sono 11 progetti e adesso cercheremo insieme di capire quali di questi progetti sono proprio dei veri giochi che possiamo prendere un po' ad esempio come una specie di template, di schema da utilizzare per la realizzazione di videogiochi e quali invece hanno un'altra finalità non sono videogiochi ma magari sono un'animazione una storia o qualcosa insomma che non prevede un'interazione un coinvolgimento dell'utente così forte come un gioco se ricordate bene durante la prima lezione abbiamo fatto il gioco scratch gara di sci oggi guarderemo appunto dal punto di vista come di teorico quindi leggeremo guarderemo insieme il tutorial non lo faremo passo passo anche perché sarebbero voglio affrontare insieme a voi uno, due, tre sono otto tutorial il nono è quello è la gara di sci che abbiamo già fatto otto tutorial insieme chiaramente se mi mettessi adesso in diretta a costruirli tutti uno a uno all'interno di scratch ci vorrebbe un video di due ore tre ore insomma sarebbe forse un po' troppo comunque insomma tanto poi potrete autonomamente realizzare questi tutorial sul vostro pc quindi cominciamo dal primo di questi tutorial scratch per iniziare vediamo cosa troviamo nella pagina ok qui ci dice guida scratch per iniziare a programmare ok l'interfaccia di scratch cominciare a muoversi queste insomma sono cose abbastanza semplici che potete potrete vedere ma mi interessa subito andare ad analizzare il primo progetto che ci propone e mi soffermo un minuto su ciò che dice qua scusate torno un attimo indietro lo diceva qui nella pagina precedente scusate in questa sezione troverai degli utili progetti per scratch il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo ok è un linguaggio orientato agli oggetti che permette di creare arte musica videogiochi e animazioni imparando i principi del coding fin dalla primaria ok quindi già questa frase se ci pensate bene ci fornisce una rudimentale categorizzazione una rudimentale tassonomia se volete dei progetti scratch che possiamo in qualche modo incontrare sia nei libri che nella che diciamo navigando in rete ok categorie che possiamo che possono essere appunto quella di progetti più o meno dedicati all'arte alla musica i giochi videogiochi e animazioni ok quindi già qui da subito possiamo iniziare ad avere uno schema per andare ad identificare all'interno di questi tutorial quali sono le linee guida gli schemi il tipo di codice i blocchetti di codice che andremo a utilizzare proprio per i videogiochi quindi quali sono le discriminanti per distinguere un videogioco da progetti di arte musica oppure da animazioni ok torniamo quindi alla pagina dove eravamo prima scratch per iniziare e apriamo il progetto che ci propone è questo labirinto ok crea già come dire già dall'intestazione diciamo il il dubbio viene come dire il dubbio subito svanisce in quanto subito ci dice che crea il gioco del labirinto con scratch ok quindi questo progetto è un gioco ok vediamo appunto quali sono le caratteristiche perché questo progetto si possa chiamare appunto gioco quali sono le meccaniche ludiche e le caratteristiche di ludicizzazione vabbè qui ci dice che per prima cosa dovremmo disegnare uno sfondo che abbia una strada di un colore e lo sfondo di un altro colore ovviamente la strada bianca su sfondo nero dovremo poi scegliere due personaggi due sprite per chi non sapesse cosa sono i personaggi e gli sprite vi invito a rivedere appunto la nostra prima lezione che era appunto scratch la metafora del teatro appunto dove ripercorro il senso di questa metafora dove gli sprite sono personaggi gli sfondi sono lo stage palcoscenico il codice il copione eccetera eccetera ok dovremo insegnare a una dei due personaggi alla navicella in questo caso a muoversi quando premiamo la freccia le frecce della tastiera quando questo quando il personaggio della navicella esce dal tracciato dovremo ovviamente attivare una penalità come vedete un gioco dove dobbiamo guidare questa dove l'utente guida con le frecce della tastiera la navicella e deve arrivare a destinazione chiaramente non deve uscire dal tracciato e intuite già qui in alto a sinistra c'è una variabile vite che di fatto è una specie di punteggio al contrario ok bisogna riuscire a raggiungere l'obiettivo senza morire troppe volte ok poi il tutorial inizio nella parte tecnica che abbiamo già affrontato nella scorsa lezione come si disegna uno sfondo in questo caso lo sfondo viene proprio disegnato dall'utente all'interno degli strumenti grafici di scratch poi creare i personaggi anche questo l'abbiamo visto l'altra volta si devono creare due sprite queste figure vengono scelte dalla dalla libreria di scratch non vi stupite se non trovate se cercate di riprodurre questo tutorial nel vostro pc ricordatevi che come vedete questi tutorial di micro ninja sono tutti fatti in scratch 2 quindi se state utilizzando scratch 3 può darsi che non troverete le immagini proprio esatte ma insomma troverete altre immagini assimilabili insomma un'astronave un pianeta lo trovate sicuramente anche in scratch 3 ok procediamo poi dobbiamo decidere quale dei due personaggi dovrà muoversi quindi quale sarà il vero giocatore il vero avatar del giocatore e quale invece dovrà restare fermo cliccando su quello che si deve muovere si può osservare che la pagina degli script è vuota e andrà quindi riempita con i nostri blocchetti quindi vedete viene selezionata qui viene selezionato il personaggio della navicella e poi viene riempito lo script questo ripeto faccio riferimento alla scorsa lezione è interessante già da questo tutorial notare una cosa interessante rispetto anche a quello che abbiamo al tutorial che abbiamo fatto due settimane fa nella prima lezione la struttura dello script vedete è piuttosto insolita rispetto ad altri progetti scratch tutti gli eventi cioè gli eventi che devono in qualche modo essere innescati dall'utente dal giocatore non sono non sono presenti sotto forma di blocchetti situazioni i blocchetti situazioni sono quelli con la gobba appunto che di solito mettiamo che di solito si mettono con scritto quando si preme il tasto freccia destra quando si preme il tasto spazio quando si preme il tasto freccia sinistra eccetera eccetera ma guardate gli eventi quindi tasto freccia su tasto freccia giù tasto freccia destra tasto freccia sinistra non sono inseriti come blocchetti situazioni quindi non sono di colore marrone ma sono inseriti come blocchetti sensori all'interno di due strutture di controllo una è un ciclo infinito, il ciclo per sempre, vedete, che gira continuamente dopo che viene attivato il gioco con la freccia destra e poi da vari blocchi if, da vari blocchi allora condizionali quindi questa è una struttura che diciamo che insomma anche negli altri miei webinar abbiamo usato raramente forse mai perché di solito per come è strutturato scratch rende molto più ovvio a usare i comandi di eventi con i blocchetti situazioni appunto, mentre in questo caso sono interne, è un ciclo per sempre, questo è normale che sia così quindi è ben fatto questo codice, è tra l'altro il modo in cui si programma anche ambienti più avanzati parlo soprattutto per chi mi ascolta, per chi è un docente della secondaria quando si programma per esempio in Arduino, anche se lo stiamo programmando a blocchetti quindi con Mblock entrando in modalità Arduino dove troverete comunque i blocchetti pari pari a quelli di scratch si lavora in un unico blocco di codice, in un unico thread di codice all'interno di un ciclo per sempre, quindi questo è già interessante come cosa? questo perché? perché cosa significa questo codice? quando premo la bandelina verde il nostro gioco è perennemente attivo fino a che non interrompo con il tasto rosso qui è perennemente attivo in attesa che arrivi un segnale dall'utente un input dall'utente, un freccia a destra, un freccia a sinistra, eccetera, eccetera ok? quanto vi sto dicendo ovviamente è riportato anche qui nei commenti vedete controlla sempre fino allo stop se una delle due frecce è premuta e se il giocatore preme la freccia in giù ruota verso il basso e fa qualche passo precisamente 5 passi andiamo avanti, cerchiamo di capire che cosa dice il codice e vabbè, questo insomma l'abbiamo già commentato possiamo andare oltre vediamo, dobbiamo posizionare la navicella all'inizio della strada questo ci permette di ricominciare il gioco ogni volta dal punto iniziale per capire dove posizionare la navicella utilizziamo le coordinate scritte in basso a destra queste qui che vedete sapete che potete trascinare lo sprite andandoci sopra con la freccia all'interno di quest'area di lavoro e ricavare le coordinate dello sprite da qui ok? x e y ovviamente che cosa ci dice questa riga? che quando il gioco viene resettato, viene riavviato ovviamente la navicella dovrà andare alla posizione di partenza che ha come coordinate questa x e questa y e quindi significa che dobbiamo aggiungere una riga di codice dei blocchetti movimento subito dopo la bandierina ma fuori dal ciclo per sempre ok? perché se mettessimo questa riga dentro il ciclo per sempre semplicemente la navicella non si muoverebbe perché ogni volta che premo un tasto si muove di 5 passi ma subito al giro successivo del codice ritornerebbe alla posizione x y di partenza quindi questa x y deve essere messa fuori dal ciclo infinito perché così viene eseguita solo una volta la prima volta cioè quando lancio il gioco oppure lo resetto con la bandierina verde vedete? all'avvio del gioco procediamo fa qualche tentativo questo poi lo proverete ora viene aggiunto viene aggiunto quest'altro thread quest'altro thread di codice che si attiva sempre con la bandierina verde e che cosa serve? questo usa il blocchetto ve lo zoomo un po' un attimo eccolo qua usa il blocchetto sto toccando il colore che è un blocchetto della categoria dei sensori e che cosa fa? quando tocca il colore quando il nostro sprite cioè la navicella tocca il colore nero il colore nero è il fuori pista viene riprodotto un suono e la vita viene cambiata di meno uno ok? questo perché chiaramente non deve andare fuori strada e quindi è la parte di codice che ci permette di avere la penalità se andiamo fuori strada vediamo anche nelle penalità ovviamente come vedete dobbiamo aggiungere un numero di vite iniziali 5 che viene ristabilito ogni volta che viene fatto ripartire il gioco con la bandierina verde ok? andiamo avanti gestire le vite a questo punto possiamo introdurre nel nostro labirinto scratch la gestione delle vite andiamo nel menu variabili e liste ok? perché chiaramente le vite devono essere una variabile e qui vi mostra come costruirla si dà in variabili e liste si fa crea una nuova variabile che chiameremo vite e questo blocco lo abbiamo lo abbiamo già visto vittoria e game over viene aggiunto un altro blocco che si attiva sempre all'inizio del gioco con la con la bandierina verde e rimane attivo almeno nel ciclo per sempre rimane continuamente attivo ve lo zoom un po' scusate eccoci qui eccoci qua questa parte gira all'infinito e che cosa succede? se le vite sono inferiori di 1 quindi se la variabile vite arriva a 0 passa cambia lo sfondo c'è uno sfondo game over oppure se sta toccando l'altro personaggio il planet allora c'è una vittoria c'è uno sfondo vittoria eccetera eccetera ok? quindi questo è il blocco che determina la la il game over oppure la vittoria è il raggiungimento del nostro scopo ok? andiamo a vedere velocemente quali sono i blocchetti il codice usato per l'altro personaggio come vedete qui l'altro script cioè il pianeta quando si clicca la bandierina che cosa fa? il pianeta va nella sua posizione viene mostrato e quando lo sfondo passa a vittoria ovviamente il pianeta sparisce viene nascosto e la stessa cosa avviene quando lo sfondo passa game over abbiamo visto precedentemente cosa determina il cambiamento degli sfondi da game over a vittoria ok? ora migliorare il gioco adesso non ci interessa mi interessa solo sottolineare come ovviamente questo tutorial sia per la realizzazione di un gioco e le meccaniche ludiche ovviamente riguardano la sfida di riuscire con destrezza a guidare la navicella all'interno del percorso senza ricevere penalità per arrivare a un obiettivo quindi ritornando alle tecniche di wikipedia appunto qui possiamo dire che stiamo lavorando su punti e crediti ok? che è la ricompensa che è poi il meccanismo la meccanica ludica più conosciuta più comune anche perché chiaramente per usare quell'altro i beni virtuali certo uno potrebbe diciamo i beni virtuali possono funzionare soprattutto magari in un'ottica di community cioè che siano poi delle cose che possono essere utili rispetto ad altri giocatori è uguale con la questione della classifica ok? più facile sicuramente è gestire i punti ricompensa oppure la creazione di livelli all'interno di un gioco questo tutorial che abbiamo visto ovviamente è monolivello insomma non prevede altri livelli però insomma abbiamo già visto appunto che intanto prima ancora di mettersi a scrivere codice sia con blocchetti che testuale dobbiamo avere in testa già una meccanica ludica che sia minimamente coinvolgente ok? andiamo avanti a un altro tutorial che come vedrete subito è diametralmente diverso torniamo indietro il secondo tutorial è questo scratch rock band vediamo come ci viene descritto sei pronto a mettere alla prova ciò che ho appena imparato realizzando un progetto con scratch questo tutorial ti spiegheremo come creare la tua rock band e farla suonare ok? allora apriamo scratch va bene viene cancellata l'immagine del gatto e sostituita con quella di uno strumento musicale un tamburo come vedete poi viene ridotta la dimensione del tamburo viene posizionato viene salvato il progetto viene realizzato uno sfondo viene scelto nella libreria di sfondi ok un palcoscenico di un teatro come vedete la batteria dobbiamo scrivere adesso il codice per suonare la batteria selezioniamo lo sprite tamburo che è l'unico sprite personaggio che al momento c'è e viene scritto il codice vedete subito qui si parte con un blocchetto situazioni quando si clicca su questo sprite quindi significa che questo tamburo suonerà o comunque il codice che verrà messo qui sotto verrà attivato al momento che con il mouse andrò a cliccare proprio sul tamburo sull'aspetto grafico del tamburo poi vado nei blocchetti suono scelgo trascino il suono suona tamburo 1 per 0,25 battute vi ricordo di fare qui dovrei fare riferimento a un mio vecchio webinar che su scratch 3 c'è da per avere questi blocchetti suono sono diversi su scratch 3 sono cambiati adesso ve li mostro un attimo apro scratch 3 così ve lo mostro non vi costringo ad andare a vedere il mio vecchio webinar un attimo apriamo scratch 3 allora in scratch 3 l'equivalente di di questi blocchetti color fucsia della categoria suono che erano di serie nella versione 2 non lo sono più nella versione 3 o meglio ci sono dei blocchetti suono ma sono diversi questi blocchetti suono della versione 3 riproducono dei campioni audio non riproducono gli strumenti musicali diciamo del sintetizzatore interno di scratch ma riproducono i campioni i campioni audio presenti nella libreria quindi funzionano in maniera un po' diversa per avere l'equivalente di questo blocchetto tamburo per 0,25 battute dobbiamo andare in scratch 3 qua in basso a sinistra e aggiungere l'estensione musica eccola qua e adesso ci troviamo questo blocco qui vedete suona il tamburo posso scegliere il tipo di tamburo rullante gran cassa crash piatto charlest eccetera eccetera per 0,25 battute quindi vedete cambia anche il colore questa è una differenza fondamentale altrimenti non vi torna ok che la gestione dei blocchetti suono e musica in scratch 3 è cambiata rispetto a scratch 2 comunque se volete avere maggiori informazioni potete andare a vedere sul sul nostro sito il il webinar makey makey per la musica se non ricordo male che lo trovate all'interno degli webinar introduttivi che sono qua sotto la categoria webinar un attimo che si che si aggiorna la pagina eccola allora qui si trovate alcune cose sulla musica ma non ma solo una parte relativa a scratch più approfondito lo trovate in coding per la primaria in coding per la primaria c'è proprio una lezione apposta coding per la musica eccola qui la terza lezione metronomo partitura e pianoforte fate inizia subito e si aprono i e si aprono i video qua sotto terza lezione coding per la musica metronomo partitura e pianoforte ok questo solo per chi di voi volesse approfondire il tema dei blocchetti suono e suono e musica insomma la differenza fra scratch 2 e scratch 3 andiamo avanti col nostro tutorial di micro ninja quindi viene inserito questo blocchetto suona tamburo sotto il blocchetto situazione e clicca su questo sprite i due blocchi vengono incastrati ovviamente viene scelto un suono abbiamo già visto anche dentro scratch 3 poi viene aggiunto un altro evento un'altra situazione quando si preme il tasto spazio vediamo che cosa viene fatto col tasto spazio ok andiamo avanti vengono aggiunti altri personaggi come vedete non vediamo che cosa accade col tasto spazio il blocco viene duplicato trascinando sotto il blocco quando si preme spazio fai clic con il tasto sinistro per rilasciarlo ok per il momento viene solo duplicato ora vediamo capiremo più tardi a cosa serve poi viene aggiunto il personaggio della cantante come vedete e il personaggio del microfono due nuovi sprite selezioniamo selezioniamo lo sprite della cantante andiamo nel menu dei suoni che in scratch 3 è uguale vedete suoni entrate nell'editor dei suoni scegliete poi verrà scelto scegli un suono dalla libreria ok si aprirà la libreria di tutti i suoni campioni audio interni a scratch nello specifico viene scelto un particolare campione audio questo singer 1 ok e anche qui questo è il codice relativo al personaggio della cantante come vedete quando si clicca questo sprite quindi quando l'utente clicca sul personaggio della cantante verrà riprodotto questo campione audio singer 1 singer 1 poi i costumi che chiaramente agiscono sull'aspetto del nostro sprite del nostro personaggio vediamo che modifiche fa sulla sulla cantante viene ah viene creato un duplicato vedete c'è la cantante che canta con le linette che riproducono le onde sonore della voce e il costume della cantante senza le onde sonore per l'appunto ok i nomi dei costumi va bene questo l'abbiamo già visto nella prima lezione come si fa ok voglio capire adesso il codice quando si preme su questo sprite viene cambiato il costume quindi la cantante come dire passa al secondo costume quello con le linette che riproducono il suono cioè riproducono insomma l'illusione di poter vedere le onde sonore che si propagano nell'aria viene riprodotto il campione audio e poi dopo che viene riprodotto il campione audio quindi quando poi la cantante smetterà di cantare verrà riproposto il costume senza le onde sonore ok e qui fino a qui ci siamo come vedete anzi è già finito sul microfono non viene messo codice viene lasciato come personaggio a sé quindi come vedete possiamo dire che questo progetto scratch che dal punto di vista del codice è un po' più semplice del precedente ma al di là della semplicità del codice che comunque insomma più o meno siamo allo stesso livello anche perché qui c'è qualche personaggio in più la cosa interessante è vedere che che qui non c'è nessun tipo di meccanica ludica se ci pensate bene possiamo classificare nella nostra tassonomia un pochino approssimativa possiamo classificare questo progetto come una semplice animazione musicale se ci pensate se ci pensate bene c'è un minimo di movimento un minimo di cambiamento grafico in quello che vediamo nel personaggio che passa da che fa vedere le onde sonore oppure no c'è un minimo di interazione perché comunque il tamburo oppure sul tamburo oppure sullo sprite della cantante deve agire l'utente ma non c'è una vera dinamica una vera meccanica una vera meccanica di gioco non ci sono punti non c'è una ricompensa non c'è un livello non ci sono dei gagliardetti virtuali non c'è una classifica non c'è niente ok può essere una cosa interessante questo tipo di progetto soprattutto se viene poi abbinato a qualche controller interessante come il mechimekie ma di sicuro non è non è un gioco se ci pensate non è un gioco non è un videogioco ok è semplicemente un'animazione andiamo avanti velocemente e andiamo all'altro tutorial che è il simulatore di gravità eccolo qua un simulatore di gravità creato con scratch cosa cosa dobbiamo fare impareremo a simulare gli effetti della gravità utilizzando il coding con scratch cosa imparerai dal punto di vista tecnico tutte queste cose le abbiamo già viste la scorsa lezione gli effetti della forza di gravità quindi già qui c'è un contenuto se vedete come di curricolare gli effetti della forza della gravità sulla terra e nei diversi pianeti nel sistema solare perché poi vedrete che ci sono degli sfondi diversi importare immagini questo l'abbiamo già fatto salvare i dati nelle variabili e usare l'operatore condizionale se usare l'operatore matematico della moltiplicazione anche queste cose abbiamo in parte viste nella prima lezione simulare l'effetto della forza di gravità come si crea lo stage il palcoscenico apriamo un file nuovo e dobbiamo caricare qui uno sprite vi ricarica uno sprite da un file è un'immagine esterna quindi se poi seguirete il tutorial in autonomia potrete scaricare l'immagine del gatto col casco da qui ok ve lo fornisce micro ninja stesso e verrà importato e lo salverete dentro dentro scratch le variabili le abbiamo già viste ok la cosa interessante andiamo avanti la cosa interessante di questo progetto è che chiaramente vengono introdotti alcuni concetti un po' di scienze di fisica insomma a seconda dell'ordine di scuola a cui ci vogliamo rivolgere oppure anche insomma di di aritmetica perché insomma ci sono le equazioni c'è le variabili e quindi già da qui possiamo capire che molto probabilmente questo tutorial non sarà questo progetto non sarà un gioco perché è un'animazione anche questa che a differenza di quella precedente che potevamo considerare un'animazione appartenente alla categoria musica oppure arte questa è un'animazione che possiamo come dire categorizzare come animazione con finalità scientifica o comunque didattica e quindi non è un gioco vediamo che cosa succede poi nel codice ma già lo si capisce che non è un gioco viene creato un primo blocco di codice relativo allo sprite del gatto dove quando si preme la bandierina il gatto va in una determinata posizione le variabili assumono un determinato valore e poi un ciclo per sempre che di fatto cambia la y del gatto in base al parametro della velocità che è direttamente che è correlato alla gravità e come dice il come ci dice il testo per il momento il programma che abbiamo scritto simula la forza di gravità facendo cadere il gatto spaziale dall'alto verso il basso adesso vorremmo fare in modo che atterri sulla terra cioè che non vada che non percorra tutto lo schermo all'alto verso il basso e poi sparisce ma che chiaramente poi si fermi una volta che tocca che tocca terra utilizzeremo l'operatore condizionale if se all'interno del loop di simulazione eccolo qua ok quindi ciclo per sempre c'è un se questa volta cioè la la y del gatto quindi la sua coordinata verticale viene variata solo se il gatto non sta toccando il colore verde ok quindi se è sospeso in aria quando il gatto toccherà il pavimento o il terreno verde chiaramente la sua y non verrà più variata perché non non si verifica la condizione che c'è qui se non sto toccando se lo sto toccando allora questo codice qui non verrà eseguito ok quello che sale scende ora nella nostra simulazione il gatto cade per effetto della gravità è a terra ma cosa succede se il gatto salta dobbiamo prendere in considerazione questa ipotesi e modificare il programma ok quindi viene messa anche la possibilità di fare poi saltare il gatto premendo il tasto spazio come vedete qui l'ipsi non viene viene variata eccetera quindi ora al di là dei blocchetti che ci sono è interessante appunto vedere come anche questo è un tipo di template di progetto scratch che è un'animazione non ci sono elementi questi insomma questi tanto chi di voi segue online gruppi blog dove si parla di scratch insomma saprete che la maggior parte dei tutorial è relativa a progetti del genere dove ci sono di fatto delle animazioni che servono per consolidare oppure mettere in pratica alla fine dei contenuti curricolari come in questo caso può essere un contenuto di scienza di fisica raramente si creano dei giochi non tanto perché il gioco non sia un contenuto curricolare ma perché chiaramente il gioco rispetto a un'animazione al di là del codice ed è qui ed è questo il contenuto il principio attivo di questa seconda lezione per cui non faremo pratica ma parleremo solo di di teoria perché se ci pensate bene è indipendente da quanti blocchetti usiamo quali blocchetti usiamo la meccanica ludica è qualcosa che viene prima deve essere progettata prima come faccio per esempio a rendere questa animazione del gatto da renderla una semplice animazione dove non devo fare niente di particolare se non premere il tasto spazio per vedere il gatto saltare come posso fare per esempio a trasformare questa animazione in un in un in un gioco per esempio uno può dire che potremmo mettere una specie di di segnale che va per conto suo una specie di semaforo che magari quando è rosso il giocatore non deve fare niente quando diventa verde in maniera imprevedibile a priori perché magari c'è un timer che 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 come dici si aggiorna casualmente quando magari diventa verde in quella finestra breve finestra di tempo magari il giocatore deve premere spazio all'interno di quella finestra di tempo per fare un punto ecco che anche se magari non è il gioco più bello del mondo però lì stiamo inserendo una meccanica ludica qualcosa che accende il coinvolgimento il senso della sfida se ci pensate bene ok quindi vedete che già questo questo anche per distinguere insomma tutti i progetti che che troverete in giro su scratch alcuni sono giochi altri non sono giochi sono animazioni che possiamo usare sfruttare didatticamente ma non sono giochi non sono videogiochi ok procediamo andiamo a vedere il il tutorial successivo eccoci qui flower generator apriamo la pagina e anche qui già l'intestazione fuga ogni dubbio questo progetto non è un gioco crea sfondi per scratch con il flower generator ok cosa farai creerai alcuni sfondi per scratch la cosa interessante è che chiaramente se uno poi controlla il codice e lo scorriamo velocemente la domanda a questo punto potrebbe essere ma perché disegnare uno sfondo con il codice invece di disegnarlo di disegnarlo con un programma diciamo di disegno su computer per carità ma comunque manuale anche un semplice paint per esempio è perché il vantaggio di disegnare col codice è quello di rendere una figura parametrica che cosa significa parametrica che posso modificarla dinamicamente ogni volta semplicemente agendo su un parametro su un numero interno al nostro codice per esempio posso variare semplicemente il numero dei fiori la oppure la variabilità la diversità dei colori delle dimensioni non ridisegnando ogni volta un fiore un secondo fiore un terzo fiore oppure cambiando manualmente il colore a dei a dei fiori ma semplicemente agendo su un parametro che posso chiamare variabilità casualità disposizione quello quello che è questo codice inizia già essere diciamo abbastanza articolato in quanto come vedete l'abbiamo già visto in altri webinar e lo vedremo nello specifico tra due settimane nella terza lezione che la terza lezione che si intitola quale blocchetti usare alla primaria e alla secondaria aspettiamo che si riapra la pagina ve lo faccio vedere questo blocchetto qui è il blocchetto definisci dove si definiscono i blocchi custom i blocchi personalizzati che tecnicamente si dice creare una propria funzione ok lo vedremo meglio fra due settimane quando affronteremo appunto la terza lezione quale blocchetti usare alla primaria e secondaria e alla secondaria soprattutto se parliamo della soprattutto se parliamo della secondaria e secondo grado e superiori sicuramente i blocchetti definisci che sono sotto la categoria altri blocchi anche in scratch 3 guardate i miei blocchi quando uno va su i miei blocchi fa crea un blocco e ha la possibilità di creare un blocchetto personalizzato tecnicamente questa operazione si chiama operazione di definizione di una di una funzione dichiarazione e definizione di una funzione ok ne parleremo meglio tra due settimane quindi andiamo avanti nel nostro tutorial allora non approfondiamolo troppo tanto si vede già dalle figure che il suo obiettivo è quello di creare degli sfondi quindi non è anche questo non è un gioco è un'animazione possiamo dire un'animazione con una finalità artistica ed è interessante che questo è un argomento che a me piace molto che introduce comunque il tema appunto della parametrizzazione di un disegno di cui ho parlato anche durante il corso coding per la secondaria lo trovate sempre nel sito paleos andate a cercarlo sotto coding per la secondaria ci sono se non sbaglio la terza e la quarta lezione parlavano appunto di come dire di generatività di parametrizzazione della grafica però non fatta con scratch ma fatta con un altro linguaggio che si chiama processing ok comunque insomma questo tutorial ci mostra come realizzare semplicemente uno sfondo con una tecnica abbastanza sofisticata che è quella della parametrizzazione e insomma potete anche andare a cercare su wikipedia su google il significato di grafica design generativo oppure design parametrico se volete approfondire andiamo avanti con i nostri ultimi tutorial prima di arrivare alla gara di sci che è quello che abbiamo fatto alla scorsa lezione e già qui iniziamo a capire scratch clone wars vediamo già qui già dall'intestazione ci dice creare un videogioco e quindi già fughiamo anche qui ogni dubbio fin da subito quindi vediamo subito la differenza non è un caso che io abbia scelto questo set di tutorial di microninja perché come dice appunto nell'intestazione della pagina esiste già di per sé una tassonomia approssimativa tra i progetti scratch fra le animazioni tra l'arte la musica i giochi eccetera insomma su queste cose e questo chiaramente è un gioco vediamo un videogame simile al classico space invaders ok c'è la navicella che deve poi sparare a un nemico chiaramente già l'elemento dello sparo coinvolge l'utente nel fatto che insomma deve prendere la mira deve essere ragionevolmente veloce eccetera eccetera quindi già l'utente è coinvolto attraverso l'esibizione di un'abilità ovviamente vedete che anche qui come nel primo tutorial del labirinto guardate la particolarità dei comandi freccia sinistra e freccia destra che non vengono messi nel blocco situazioni cioè non vengono messi in questo in questo modo qui con questi blocchetti con la gobba ma vengono usati i blocchetti sensore all'interno di 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 un blocco if di un blocco se a sua volta annidato all'interno di un blocco per sempre un lampo come proiettile la navicella spaziale deve essere in grado di sparare dei lampi ok che sono l'altro personaggio perché si muovono poi in autonomia e vediamo se ci abbiamo se ci sono anche altre meccaniche ludiche oltre all'esibizione di un'abilità quindi di muoversi di sparare per colpire un obiettivo ovviamente che dobbiamo sparare nel vuoto devo sparare agli ippopotami volanti che sono il nostro l'obiettivo del fulmine vediamo se poi c'è anche un punteggio immagino di sì qui c'è anche il blocchetto crea cloni che crea poi continuamente delle nuove copie del nostro del nostro ippopotamo via via che vengono abbattuti come vedete qui ok andiamo avanti andiamo avanti viene arricchito il paesaggio procediamo procediamo vediamo se c'è anche un punteggio eccolo qua punteggio e vite in questo caso quindi qui c'è sia il punteggio in negativo cioè il fatto che prima o poi il gioco finisce perché uno rischia di morire sia il punteggio in positivo perché c'è più ippopotami colpisco più il il punteggio sale ovviamente come nel tutorial iniziale labirinto vedete che ci sono tanti thread di codice attivati tutti dallo stessa innesco della bandierina verde ok ora non anche qui non mi interessa raffrontare tanto questa cosa la affronteremo fra due settimane ma mi interessava appunto sottolineare le evidenti meccaniche ludiche che distinguono questo progetto da dalle animazioni precedenti abbiamo quasi finito andiamo a vedere Clone Wars l'abbiamo visto il nuoto sincronizzato progetto nuoto sincronizzato eccolo qua per fare eseguire un esercizio di nuoto a un gruppo di gattini al ritmo di musica e anche qui qui torna un progetto che sostanzialmente è un'animazione perché che come dire che possiamo dire che sia anche questo dal punto di vista della progettazione un esercizio di come possiamo dire di dove al di là dell'aspetto come dire estetico del movimento dell'eventuale musica scelta è poi un lavoro dal punto di vista didattico sostanzialmente sui parametri di movimento quindi rotazioni traslazioni eccetera eccetera e vedete la differenza rispetto al codice precedente e al del gioco Clone Wars e rispetto al gioco del labirinto vedete come risbucano fuori un sacco di blocchetti situazioni per l'innesco delle frecce invece di mettere le frecce l'innesco delle frecce interno a un unico thread di codice all'interno di un ciclo infinito ok questo ricordatelo perché poi lo affronteremo nella prossima lezione ricordatevi questa differenza fondamentale tra avere tanti blocchi di codice che come dire che si attivano in parallelo quando avviene l'innesco iniziale rispetto ad averne uno solo che gira all'infinito e che è sempre pronto a ricevere gli input dell'utente quindi freccia destra freccia su freccia sinistra eccetera vabbè qui poi vengono aumentati cioè vengono duplicati altri gatti con con aspetto diverso con costume diverso andiamo velocemente alla fine per vedere il risultato il risultato finale ecco qui nuoto sincronizzato la musica vediamo come viene importata la musica in questo caso viene importato semplicemente un campione audio perché produce il suono dance funky significa che viene importato un campione audio che si chiama appunto dance funky anche qui come in uno dei tutorial precedenti vedete che la gestione avviene tutta dentro ai blocchetti ai blocchetti scusatemi è saltata all'interno dei blocchetti suono sia dei campioni in scratch 2 sia i campioni audio sia gli strumenti midi vengono gestiti dentro la categoria suono mentre in scratch 3 sono divisi i campioni audio li troviamo sempre nella categoria suono mentre gli strumenti e il midi quindi dove possiamo dire la durata di una nota la durata di una pausa li troviamo dentro la categoria musica che abbiamo importato dalle estensioni ok andiamo a concludere i nostri tutorial di microninja allora eccoci all'ultimo scratch memory come già ci dice il nome è un gioco un esempio di gioco il memory è strutturato in non è il memory fatto con le con le carte a cui probabilmente siamo più abituati è un semplice gioco dove dovrai ripetere una sequenza casuale di colori che ti viene mostrata nella versione che vogliamo costruire una ballerina balla sul palco cambiando in modo casuale il colore del suo vestito il giocatore deve memorizzare la sequenza e usare i pulsanti ovvero i tamburi per ripetere la stessa sequenza se sbaglia il gioco finisce se ripete correttamente gli viene mostrata una sequenza più lunga e così via e qui vedete che già viene così via scusate finché non sbaglia il punteggio che il giocatore realizza corrisponde alla lunghezza della sequenza che ha ripetuto correttamente ecco che qui vedete addirittura venire fuori una nuova meccanica ludica che in base a quelle che avevamo visto qui in wikipedia è il livello ovviamente finora abbiamo lavorato soprattutto sui punti crediti ricompensa adesso viene fuori il livello stato cioè che il gioco piano piano diventa più difficile via via che uno si mostra capace di reggere la sfida chiaramente qui appunto la meccanica è potente oltretutto c'è anche il punteggio vedete c'è anche il record in qualche modo che uno può in qualche modo poi annotarsi eccetera e questo lo rende già interessante insomma direi che vedete che già qui le meccaniche sono ancora più evidenti rispetto ai tutorial solo animazione ok ci fermiamo qui per oggi perché tanto il tutorial seguente gara di sci lo abbiamo già visto due settimane fa nella prima lezione quindi vi invito a rivederla se insomma se volete approfondire perché era una lezione passo passo dove abbiamo proprio costruito dentro scratch tutte le istruzioni del tutorial gli ultimi due tutorial Catch the dots e Bot Race sono un po' difficili riguarderemo tra due settimane la terza lezione perché chiaramente la lezione che si chiama appunto quale blocchetti per la primaria e la secondaria avrà proprio lo scopo di creare un po' come possiamo dire una specie di template di schema mentale su come creare ragionevolmente un videogioco con gli strumenti logici del coding che possiamo fare alla primaria gli strumenti logici del coding che possiamo fare alla secondaria di primo grado e poi alla secondaria di secondo grado ok quindi avere diciamo un template di videogioco semplice intermedio e avanzato però già penso che con questa lezione avendo analizzato già un discreto campione di progetti 8 progetti più quello dell'altra volta 9 insomma sia già possiate già esservi fatti un'idea di quali possono essere dei template da usare che fanno leva ovviamente sulle dinamiche e sulle meccaniche ludiche di cui abbiamo parlato a inizio lezione io vi saluto spero che come dire che la lezione sia stata magari che sia stata interessante come ho detto in premessa anche se non è stata pratica ma comunque pratica potrete tranquillamente farla in autonomia seguendo i tutorial di Microninja ci rivediamo ci risentiamo fra due settimane buon lavoro sicuro Grazie a tutti.